L'appello al governo del Movimento per la Vita e di due ex presidenti della consulta, Baldassarre e Mirabelli, a presentare ricorso contro la sentenza dell'agosto scorso della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha sancito la differenza tra persona concepita e nata, per evitare che diventi definitiva. Con la nascita poi una persona può relazionarsi con gli altri, ma è una cosa diversa, si è persona anche prima di relazionarsi con gli altri. L'appello è arrivato durante la presentazione di Noi non li dimentichiamo, il libro scritto da Carlo Casini per l'anniversario della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, per ricordare i bambini nati, ma anche quelli non nati. Domani e nei giorni successivi in vari luoghi del mondo si faranno celebrazioni della Convenzione dell'89 sui diritti dei bambini, cosa buona. Tutti parleranno giustamente, io mi associo a loro, dei bambini sfruttati, maltrattati, fatti lavorare, resi soldati, morti di fame. Io sono con loro, hanno ragione. Ma tutti dimenticheranno una parte dei bambini, una parte numerosissima che viene esterminata attraverso l'aborto. Al centro del libro anche la singolare sentenza della Cassazione italiana del 2 ottobre scorso, in cui si è legittimato il risarcimento danni per la nascita di un bambino malformato, ovvero l'eutanasia del concepito disabile. Il risarcimento per la nascita, il risarcimento attribuito a terzi per la nascita della persona, in realtà si ancora a questa visione del diritto al figlio sano che è per la verità l'espressione speculare del diritto di non far nascere il figlio malato.